Buongiorno amici youtubers, vi annuncio l'uscita di Lambrate dall'Unione Europea. La decisione è avvenuta dopo una consultazione popolare per rimanere in Europa oppure uscire. La maggioranza dei voti espressi è stata favorevole all'uscita. Che cos'è il Lambraxit? Spiegato bene, d'ora in avanti per accedere a Lambrate occorrerà regolare passaporto. Verrà cognata una nuova moneta, il Lambro, che avrà valore di 500 lire. In base all'articolo 05, Lambrate uscirà definitivamente dalla UE e tutte le decisioni prese da Juncker verranno sostituiti da nuovi regolamenti popolari che verranno stabiliti pubblicamente al bar dei cinesi. Dopo le brevi dimissioni del Consiglio di zona, L'Ambrate verrà governata per i prossimi due mesi in attesa di nuove elezioni da un regime militare provvisorio presieduto da Generale Don Juan Carlos Salvatore Perones. La presto con i nuovi aggiornamenti dall'Ambrate liberata. Vi saluto e arrivederci a presto.